Amici, rieccomi di nuovo, oggi ho già fatto un video lunghissimo, ma questa vuole essere una considerazione invece di servizio e molto veloce, per cui esula da tutti i discorsi sia ufologici sia che facciamo di solito sul canale, ma è proprio una comunicazione che spero possa essere utile per qualcuno, quindi mi piace di riportarla così per fare un piccolo servizio. Per chi non avesse riflettuto, non avesse pensato a questa cosa, che riguarda soprattutto in realtà i titolari di aziende, chi ha negozi, chi ha attività, chi ha ditte di tutti i tipi. Come sapete il decreto ha chiuso maggior parte delle attività, quelle dichiarate non essenziali e ha lasciato aperte le attività invece legate alla sanità, ai trasporti e gli uffici pubblici in qualche caso, insomma hanno separato le due cose, le attività da chiudere e quelle da non chiudere, ma alcune categorie sono rimaste un pochino nel mezzo, quindi alcuni proprietari, alcuni negozi, alcune ditte si trovano a dover decidere, anche perché magari la clientela è poca, il periodo è quello che è, per cui sono i singoli proprietari a dover decidere se rimanere aperti o chiudere l'attività per un periodo. Se è questo il caso, quindi per quelle aziende, per quei negozi e quelle categorie che sono state non menzionate specificatamente nel decreto, i proprietari si trovano in questa condizione, la situazione qual è? Mi è arrivata notizia di alcuni che hanno il loro negozio, la loro azienda, che hanno sentito i loro commercialisti e legali e il parere è stato il seguente, cioè se si decide di chiudere di propria spontanea volontà si potrebbe non ricadere in quelli adeguati adeguati a ricevere gli eventuali sovvenzionamenti o finanziamenti che arriveranno dall'Europa o dall'Italia stessa che stanzierà o da chissà quale ente che predisposto ha, quindi la notizia è solo questa. Sappiate che chi, cioè almeno c'è la possibilità, non è un dato certo, ma c'è la possibilità che chi chiude per propria volontà, per propria decisione, potrebbe essere escluso poi da ricevere questi fondi di, tra virgolette, risarcimento, quindi tutto qua, video velocissimo, chiudo subito, era solo per dare questa veloce notizia. Un abbraccio, a presto.